Non è facile fare un commento a caldo perché erano tanti e adesso ho un panorama di immagini, storie, linguaggi diversi che devo elaborare come quelli dei giorni che verranno, però sono contenta nel senso che proprio sento di aver visto tante cose diverse, tante storie diverse e ho proprio voglia di farmi una specie di classifica personale in base a non so quale criterio ma si fa sempre così. Sono molto contenta della situazione perché a parte che avete una sala bellissima a disposizione è un sacco di persone, un sacco, giovani, meno giovani, tutti molto vogliosi mi sembra di partecipare.